Siamo nella Chatauchi National Forest, nel nord della Geordia, circa due ore di strada da Atlanta. Queste sullo sfondo sono le cascate de Soto. Fernando de Soto era un esploratore spagnolo e il nome alle cascate è stato dato per il ritrovamento di alcune frammenti di armature spagnole che si pensano appunto siano appartenuti al corpo di spedizione di Fernando de Soto. È una zona piena di foreste dove vivono anche diverse centinaia di orti e siamo quasi ai confini con la North Carolina.